Che eleganza, non so se avete mai visto la serie, com'è che si chiama? La storia delle ancelle, Handmaid's Tale, la storia delle ancelle, cavoli sei uguale, mi devi tardi amore, ah ok, ciao ragazzi stiamo andando a ritirare l'ambrogino d'oro e se volete vedere ci sarà la cerimonia in streaming a questo link qua, se no ci vediamo dopo.